Centinaia di furti quintali di cibo destinato ai degenti della San Matteo che invece finivano sulle tavole dei dipendenti delle cucine dell'ospedale. Una storia che va avanti da anni secondo gli inquirenti e che è stata fermata a martedì mattina con l'arresto di 13 persone, tutti cuochi o addetti alla mensa dipendenti del nosocomio, tranne uno socio di una cooperativa. Con le accuse di peculato e furto aggravato sono finite agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Pavia al termine di due anni di indagini coordinate dal sostituto procuratore Roberto Valli. Gli agenti della squadra mobile diretti da Francesco Garcea hanno piazzato telecamere nascoste nelle cucine e hanno filmato e accertato 222 episodi. Un'attività durata due anni che ha permesso di documentare una consuetudine, un andazzo di ruberie. Le ruberie secondo gli inquirenti si protraevano sicuramente dalla 2013 quando sono iniziate le indagini ma probabilmente anche da prima. Come testimoniano le immagini nelle dispense dell'ospedale si rubava di tutto. Verdura, frutta, cibi precotti, bevande e carne venivano nascosti nei sacchi neri della spazzatura per poi essere caricati in macchina a fine turno. Uno degli arrestati è stato fermato all'uscita con quasi 10 chili di roast beef, mentre il dipendente di una coppa entrava di notte con altre persone per rubare interi sacchi di stoviglie, usa e getta. Lo scenario è solo la mensa, tutto si svolgeva là anche perché è lì che ci sono i locali dove vengono le dispense, dove vengono conservate tutte le derrate alimentari, le vettovaglie e quant'altro, quindi solo là. L'operazione, oltre a quelli dei 13 arrestati, ha portato gli inquirenti a scrivere i nomi di altre 35 persone nel registro degli indagati, tra di loro una guardia giurata senza la cui complicità sarebbe stato difficile entrare e uscire di notte. A dare il via alle indagini, un giovane addetto di una cooperativa che si era accorto delle ruberie e, dopo essere stato costretto a licenziarsi, aveva sporto denuncia alle forze dell'ordine. Per lui, qualcuno già pensa a una candidatura per le prossime benemerenze civiche. Dopo gli arresti, i vertici del San Matteo hanno parlato di episodi gravissimi e fatti odiosi che, se confermati, ha detto il neopresidente della fondazione Giorgio Girelli, sarebbero l'opposto della gloriosa tradizione di un istituto con valori ed eccellenze prima ancora umane che professionali.